Mi chiamo Nanice e faccio i capelli, per cui come si sa Nanice ha sempre avuto un cappellaio matto vicino al suo fiamme. Le forze vanno aperte fuori via, da questa fuori via, nasce proprio questo nuovo brand Montegallo. Che cosa fa Montegallo? Intanto Montegallo parla del stile di vita che si fa in una regione e in una città di provincia. Una vita di campagna, una vita all'aria aperta, una vita in cui normalmente si porta il cappello. Si dovrebbe portare il cappello, il cappello si dovrebbe portare sempre. Perché oltre ad essere bello, il cappello è una ciascola che fa molto, molto bene alla salute. I cappelli Montegallo nascono da una mia idea, sono diversi modelli. Ci sono texani, ci sono trippi, ci sono turbanti. L'idea è che ogni donna, perché la coalizione è dedicata alle donne principalmente, possa scegliere il proprio tipo di cappello. Iniziamo così a ripopolare il mondo di gente che porta i cappelli. Io credo che l'integrale del procidente inizia proprio dall'uomo e dalla donna che hanno scoperto. Per cui sarebbe molto bello nei miei sogni che tutti ricominciassero a portare cappelli come qualche generazione fa. Io ricordo i miei nonni, ricordo i loro amici che indossavano cappelli. Mentre invece ho sentito tanta, tanta gente che dice che quello bisogna saperlo portare. Questo è un luogo comune assolutamente da sfatare. Il cappello va portato e va portato con disinvoltura. È una questione di abitudine indossare il cappello. Ecco, questo è il mio sogno e questo è il sogno di Montegallo. Grazie.